Dai non ti fermare, cammina insieme a me, hai voglia di cambiare, seguiti per un giorno re. Guarda che stanotte il treno se ne va, l'occasione è buona per uscire dalla realtà, e se ti salti in mente scendi in strada con la gente a ballare. Sentirsi come un papà senza tanti da pregare si può fare. Puoi studiare da dottore per un posto da cantautore nazionale, ed avere tanti soldi da poterseli rubare si può fare. Prova una volta a inventarti una rock'n'roll band, suolta niente da pregare che stanno facendo la sponna tra e di una banda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.